Buongiorno amici. Oggi ci permettiamo di ricordarvi di farvi una piccola lezione di diritto costituzionale, di educazione civica, chiamatela come volete. Cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dirvi, ragazzi, che non sempre chi vince le elezioni ha il diritto di governare. Cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra Costituzione, sin dal 1948, ha delle regole molto chiare. Continuiamo a leggere molti post di amici dei 5 Stelle che ci dicono che il Movimento 5 Stelle ha diritto che deve governare per forza e che cacchio è qui e là e su e giù perché abbiamo preso il 32%. Vorremmo ricordare agli amici 5 Stelle una cosa molto semplice. Vorremmo ricordare che la Costituzione, da sempre, prevede qualcosa di diverso. La Costituzione nostra prevede che l'Italia sia governata con un governo parlamentare, ovvero la maggioranza non deve essere data dalla percentuale del partito che si è votato, ma deve essere data dai numeri presenti in Parlamento. Questa non è una fregatura di oggi, di ieri, della legge elettorale. È così dal 1948. Quindi vorrei farvi un piccolo ripasso, tanti amici, soprattutto dei 5 Stelle, ma anche dei sostenitori Salvini. Ed è anche un problema di governabilità, un problema grosso questo. Perché? Perché fra qualche giorno, quando si saranno insediate Camere e Senato, il Presidente Mattarella cosa farà? Dovrà dare l'incarico, ma non lo darà per forza in automatico a Di Maio, perché Di Maio è fico, è bello, è giovane, conosce i congiuntivi e ha preso il 32%. Lo darà a Di Maio o a qualcun altro solo e esclusivamente quando sarà in grado di dimostrargli che teoricamente, tecnicamente, avrà i numeri alla Camera e dal Senato per poter avere, conseguire il voto di fiducia, ovvero per poter essere, diciamo così, tecnicamente eletto, eletto da Camera e Senato congiunte. Prima una, poi l'altra. Quindi, cari amici, tanti amici 5 Stelle, la morale di questo video che cos'è? Sempre la solita storia. Imparate ad informarvi, conoscere, sapere. Non condividete come degli asinelli i post che arrivano dalle varie pagine. Ah, se non darete l'incarico a Di Maio non sarà il premier, sarà rivoluzione, sarà un golpe. Purtroppo, perché anche a noi piacerebbe che chi prende più voti diventasse in automatico il primo ministro, purtroppo non è così. Ve lo ricordiamo, ragazzi cari, e chiediamo a tanti di condividere questo video, ma perché è solamente un video informativo. Cosa vuol dire? Allora, come sapete, il Movimento 5 Stelle ad esempio alla Camera ha 221 eletti al momento. Mancheranno quelli dell'estero, ma è poca roba, 1, 2, 3 eletti in più. Tra l'altro, questi 221, teoricamente, bisogna levare i 5 o 6 cialtroni che sono stati candidati e poi espulsi. Perché, ragazzi cari, questi qua non è detto che se ne vadano a casa, perché vuol dire che anche qui non conoscete bene le regole. Perché una persona eletta, per andarsene a casa, non è sufficiente che dia le dimissioni. Devono essere votate, quindi messe in agenda e approvate dalla maggioranza dei colleghi. È una cosa, è una prassi che da 70 anni non avviene quasi mai. Quindi il bandito presidente del Cosenza, i tre o quattro cialtroni che hanno fatto finta di dare i contributi del microcredito e si sono intascati i soldini mentre andavano in televisione a dire che noi ci tagliamo lo stipendio. Il candidato che era iscritto alla massoneria in campagna. Tutta questa gente è stata eletta. Perché noi italiani siamo così caproni che se a Bologna l'elettore PD è così asino da votare Casini in alcune zone d'Italia, tipo a Pesaro, l'elettore 5 Stelle è così asino che ha eletto uno che le ha presi per il culo. Così come è successo in campagna e così come è successo in altre parti. Quindi, riepilogando, cari amici, allora se siete il primo partito non è detto che siete vincitori delle elezioni. Perché a livello di vincitori, per quello che si può dire vincitori, perché non ha vinto nessuno, tecnicamente è più vincitore il centrodestra, quindi Salvini. Ma perché? Perché Salvini ha 260 eletti, teoricamente tutti dalla sua parte. Per arrivare alla maggioranza di 315 a Salvini mancherebbero, che non sono pochi, 55 voti. Ai 5 Stelle, che hanno 221 eletti su 630, che è praticamente, se andiamo a vedere quel 32% di voti che avete preso, ne mancano la bellezza di 90. 90 voti vorrebbe dire fare alleanza col PD. E a quel punto lì, se voi volete veramente il governo dei 5 Stelle, dovrete andare a patti col diavolo. Perché il diavolo non vi regala il governo di Maio con quei 10, 12, 15 quanti erano ministri ideali presentati dal buon Giggino, tre giorni prima delle elezioni. Da che mondo è mondo? Se vuoi andare al governo con qualcuno che ti presta la bellezza di 90 voti ogni volta, non avrai più un governo a 5 Stelle. Avrai un governo del compromesso. Avrai un governo dove dovrai trattare col PD ogni ogni provvedimento, a meno che non vengono fatti provvedimenti senza senso, tipo ussoli, tipo cittadinanza a cani e porci, tipo provvedimenti ce lo vuole e ce lo chiede l'Europa, quelle porcate lì. Quindi, attenzione, ricordatevi sempre, cari amici, prima di condividere tutti quei post che vediamo nelle nostre baccheche tutti. E adesso se non date il governo di Maio e Mattarella sei un bastardo, è qui e là, a golpe. No! La Costituzione, cari amici, prevede che il Presidente della Repubblica abbia il dovere, il dovere, perché è scritto nero su bianco. Attenzione, è dal 48 che è così, non è da ieri. Cercate sempre di informarvi. Quando si partecipa a un gioco bisogna sempre conoscere le regole. Quindi, dicevamo, Mattarella ha il dovere di dare l'incarico di provare a formare il governo a chi gli darà la garanzia di avere, teoricamente, i numeri per avere la maggioranza dei voti alla Camera e lo stesso al Senato. Quindi, il fatto che avete preso il 32%, cari amici 5 Stelle, complimenti, un risultato davvero storico. Ve ne va dato atto, chapeau! Però non avete, tra virgolette, alcun diritto a governare. Perché vi mancano solo alla Camera, tanto per fare un numero, più di 90, teoricamente sono 95, minimo 95 voti. Ma per avere la maggioranza risicata di uno, e a chi converrebbe andare al governo con il PD che ti tiene la mano sotto i marroni? Perché quello sarebbe, eh? Pensate bene, voi 221, il PD 90 vorrebbe dire che c'è un rapporto di 2 a 1, 3 a 1. E quindi ogni provvedimento avreste Renzi piuttosto che Franceschini, piuttosto che Orlando, tutta questa bella feccia che vi viene a dire no, eh, devi fare come dico io, sennò non ti voto. Quindi, taci testina, caro Simone, alunni Boldrini, non so chi tu sia. Eh, ragazzo caro, imparai a studiare, sennò ho ragione Sgarbi quando ti date la capra. Perché, vedete, un conto è il mondo di Facebook, un conto è il mondo reale. Il mondo reale esiste così da 70 anni. Capisco che c'è tanta gente che legittimamente si è avvicinata alla politica magari a causa dei suoi problemi della crisi. Il problema, la lezione di questa crisi, di questi anni, è che noi italiani dovremmo seguire la politica sempre, anche quando ci vanno bene le cose. Anche quando ci vanno bene le cose perché la politica significa amministrare i soldi delle nostre tasse. Quindi, riepiloghiamo col 32% dei voti e vedrete che non sarò smentito con questo video dei fatti, non hai il diritto di governare. Primo, perché piaccia o no, e su questo ha ragione Brunetta, la vittoria vera, a prescindere da quella morale, da quella masmediatica, è quella del centro-destra che ha più seggi, più eletti di voi. Però, però, anche la Lega e Berlusconi, vedrete, faranno fatica perché a loro ne mancano 50 di voti. Per mancargli 50 voti sapete cosa vuol dire? Che dovrebbero, virgolettato, comprarsi, virgolettato, cioè far cambiare casacca, pronti via, a più di 50 eletti tra sinistra e 5 stelle, perché i partiti quelli sono. Quindi, cari amici, l'invito che vi facciamo, non siate isterici nei vostri post su Facebook, non siate partigiani nel senso di persone di parte. Cercate di usare il buonsenso. Purtroppo per voi e anche per l'Italia ci mancherebbe. A tutti piace avere un governo, qualunque esso sia. L'importante è che ci sia qualcuno che provi a prendere delle decisioni. Noi non siamo di una parte o dell'altra. Vogliamo solo aprire gli occhi a chi si è avvicinato da poco alla politica e sbraita sulle bacheche e adesso dovete darci il governo, abbiamo il 32, siamo i primi. Non siete i primi. Avete 221 eletti contro i 260 della coalizione del centro-destra. Piaccia o no? Ma queste sono le regole. Ci sono sempre state le coalizioni, amici. Non le ha inventate questa legge di merda che ci ha fatto andare a votare. Quindi, cari amici, cortesemente, cortesemente, cercate di usare il buonsenso. Cercate di usare il buonsenso. Ok? Cercate di usare il buonsenso. Cosa dice la legge elettorale, la Costituzione, non la legge elettorale, la Costituzione? Che una volta terminati i risultati e proclamati gli eletti, si procede ad eleggere il Presidente del Senato e quello della Camera. Dopodiché il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni per verificare chi ha una maggioranza per legge. La Costituzione dice, in questo caso a Mattarella, che a Mattarella non gliene, scusate il termine, può fregar di meno che i Cinque Stelle abbiano preso, abbiano fatto il botto. Perché se i Cinque Stelle sono fermi a 221 voti, non viene giù nemmeno Gesù Cristo a darvi l'incarico a Gigino, il re dei congiuntivi. Ok, amici, mettetevi il cuore in pace, ma è la... accade così dal 1948. Amici, accade dal 1948. Non è un'invenzione della massoneria, non è un'invenzione dei poteri forti, è la cosiddetta Costituzione fatta dai partigiani, quelli con tre G, ok? Gli amici della Boldrini. Questo è la Costituzione italiana dal 1948 e finché non viene cambiato e non viene trasformata in una Repubblica Presidenziale, l'Italia è una Repubblica parlamentare. Contano i numeri che ci sono alla Camera e dal Senato. Spero che sia chiaro una volta per tutti. Cortesemente con i commenti, non insultate perché... insultate voi stessi se insultate. Stiamo dicendo delle cose che dovrebbero essere ovvie, che purtroppo i mass media ci fanno gioco, raramente vi spiegano come funziona il gioco. Anche se, scusatemi eh, siamo tutti adulti e alle scuole medie fino a qualche tempo fa, adesso non lo so, veniva insegnata l'educazione civica. Questo più che diritto costituzionale è educazione civica. Quindi, ragazzi, cuore in pace e evitate di sclerare coste menate, che col 32% Mattarella ci deve dare l'incarico a tutti i costi. Non sta scritto da nessuna parte. Ringraziamo tutti coloro che avranno il buon cuore di condividere, di mettere like alla pagina Grande Concomero Classic, continuate a seguirci. Facebook purtroppo sta continuando a boicottare le nostre notizie e noi continuiamo a mandare notizie i più imparziali possibili. Ok? Un abbraccio a tutti e alla prossima diretta.